La festa dell'unità torna dal vivo a Pesaro con una sei giorni di incontri, dibattiti e spettacoli nella cornice di Piazza del Popolo che prenderanno il via mercoledì 25 agosto e andranno avanti fino a domenica 29. Ad anticipare l'inizio ufficiale della manifestazione sarà l'arrivo in città del Ministro della Salute Roberto Speranza, protagonista della giornata di anteprima dell'edizione 2021 ed è l'incontro pubblico che avrà luogo lunedì 23 agosto alle 21.15 in Piazzale Collenuccio. Inizieremo la festa con un appuntamento particolare che è quello con il Ministro Speranza che vuole essere proprio l'attenzione massima al tema della salute, condividere e capire dal Ministro anche quelle che potranno essere le prospettive per i prossimi mesi e noi speriamo che siano sicuramente positive e anche ragionare insieme delle misure che si stanno mettendo in campo, alcune sono anche molto discusse però servono per poter riprendere la normalità in sicurezza. Quest'iniziativa che è nella tradizione del partito quest'anno appunto si caratterizza anche con questo tema e cioè quello del cercare di riportare le persone al confronto, quindi valorizzare la socialità, ritornare anche a iniziative seppur protette e con le regole necessarie in presenza e quindi ecco un ritorno alla normalità che sicuramente è importante ed è un ottimo segnale. La presenza dei giovani è straordinaria, noi abbiamo questo contenitore, questo perimetro dei giovani democratici che sta dando grandissimi risultati e questo è un altro elemento che mi fa dire che la festa è sempre un contesto di speranza. Ci sono incontri politici tutti i giorni, in particolare il 26 avremo con noi Landini, segretario generale della CGL che parlerà del lavoro ai tempi del Covid, il 29 chiudiamo con Matteo Ricci e il sindaco di Firenze e Nardella che parleranno dell'Italia veloce e delle prospettive che può avere il Partito Democratico a collaborare con i sindaci e in generale durante tutta la festa affronteremo temi legati al territorio, al ruolo dei sindaci e delle città e anche un po' di politica nazionale, avremo un confronto tra la Morani e la Bernini di Forza Italia e ospiteremo anche degli spettacoli. È opportuno prenotare prima gli eventi, a disposizione già un form online sia sul sito del PD Pesaro sia sui social a cui semplicemente inserendo i dati si può prenotare il proprio posto scegliendo quale evento e volendo si può prenotare anche attraverso un numero di telefono per chi è meno pratico degli strumenti digitali. In alternativa si può prenotare anche il giorno stesso al banco dell'ingresso se ci sono posti liberi lasciando i dati per il tracciamento. All'ingresso ovviamente sarà richiesto il Green Pass sia per quanto riguarda i dibattiti sia per l'area ristorante dove non serve prenotazione se arriva il momento ma comunque si verrà verificato il Green Pass.